carissimi amici salve a tutti e ben ritrovati era un po di tempo che rimanevo in agguato aspettando un utensile di parkside che fosse per così dire completo di batteria carica batteria e magari qualcosina in più ho trovato questo set di trapano avvitatori ricaricabile della serie x 20 tv team e me lo sono portato a casa per 90 euro l'altro giorno ho fatto l'unboxing ho già pubblicato il video e nel video stesso vi avevo promesso un piccolo confronto con un utensile che già posseggo che è questo trapano avvitatori della black and decker ora il black and decker ce l'ho da qualcosa come una quindicina d'anni quindi praticamente vi posso dire vita miracoli morte no perché ancora funziona che una bellezza però nel confrontarlo con questo parkside appena arrivato vi posso immediatamente dire cosa non mi ha convinto del nuovo acquisto ce l'ho da una settimana ed è stato sufficiente già fare l'unboxing per notare qualcosa che assolutamente non mi è andato giù vi dicevo aspettavo un utensile completo e purtroppo si conferma l'impressione di lidl e parkside di offrire sempre delle macchine in realtà manche in qualcosa mancanti in qualcosa per 90 euro vedendo anche le dimensioni della macchina ma aspettavo intanto un trapano avvitatore con percussione cosa che vi dico subito non ha e poi un'evoluzione della specie nel senso che se questa è una macchina che ho acquistato 15 anni fa dopo 15 anni ci si aspetta un guadagno all'irà del discorso della potenza perché sono da 40 newton metro entrambi però un guadagno in praticità in dottilità della macchina magari qualcosa di più compatto ugualmente potente e molto più versatile cosa che in realtà latita non c'è completamente già a fare l'unboxing vi avevo espresso una prima impressione relativa al peso questo parkside io l'ho sentito enormemente pesante però sapete non avendo lì a portata di mano in termini di paragone con quella che la macchina che assolutamente uso per qualsiasi lavoretto così all'improvviso dover mettere un tassello nella parete dover fare una piccola perforazione su un metallo legno eccetera non non ho avuto la possibilità di esprimermi con la sicurezza dovuta oggi però chiaramente mi sono procurato la bilancia da cucina e vi vengo a pesare entrambe le macchine ora a differenza del black and decker il parkside chiaramente monta una batteria da 2 ampere contro quella da un ampere e mezzo di black and decker in questo vi dico la forma e la dimensione delle celle da 18 650 è praticamente identica laddove dovessimo avere delle batterie magari da 4 ampere ci troveremo una serie di di celle in più ma parlando di un ampere e mezzo 2 ampere il numero di batteria di celle scusate all'interno è sempre lo stesso non vorrei dire una sciocchezza ma sono o 4 o 6 ora non mi sovviene l'ho aperto giusto ieri e ora non mi viene comunque 46 batterie 46 celle per ognuno di questi pacchi batteria in ogni caso adesso ve li vengo a pesare entrambi così anche voi potete assicurarvi della differenza facendo la bilancia azzerata 1703 grammi contro il black and decker che risulta di 1274 sono quasi 500 grammi di differenza mezzo chilo su un chilo e sette trovarsi contro un chilo e sette trovarsi un chilo 2 75 e tanto è anche perché solitamente uno come lavora magari sta lavorando in una situazione scomoda contorto sotto un mobile che sta montando su una scala in equilibrio precario un lavoro che magari lo costringe a stendere il braccio e affaticare ancora di più addirittura utilizzando con l'altra mano se non un appiglio un ulteriore utensile cioè quei 500 quasi 500 grammi in più sono un fastidio notevolissimo perché poi sarà poca cosa ma aggiungeteci anche il peso degli accessori delle punte e i veri 100 e già questo è fortemente discriminante nella scelta di un prodotto che insomma essendo di nuova ultimissima generazione dovrebbe offrire tanto di più ora quel di più che posso ad esempio notare al di là di quello che è la leggera capienza della batteria è giusto il mandrino interamente in metallo perlomeno nella ghiera esterna questo è quello che posso vedere e soprattutto sempre riferendoci al mandrino il fatto di poter ospitare delle punte da 13 mm contro la possibilità di ospitare punte fino a 10 mm in maniera utile del black and decker il black and decker ha un a un mandrino estremo esternamente in plastica però anche qui mandrino in plastica esternamente mandrino in metallo e black and decker questo qua è un trapano a percussione cioè io ci ci lavoro tranquillamente quando devo piantare tasselli da 10 mm nel muro quindi non è che avere la ghiera perché poi è questo che in plastica in un materiale plastico in polimero significhi chissà che rispetto ad avere una ghiera in metallo qui c'è sì una ghiera in metallo il mandrino che supporta fino a 13 mm di punte però per quello che è stata la mia esperienza del black and decker 40 newton metri quando tocca utilizzare punte particolarmente grandi chiaramente iniziano a diventare pochini siamo al limite già per i 10 mm penso che per 13 mm siamo oltre quindi ci troviamo un mandrino nella misura sovradimensionato rispetto a quello che è la potenza della macchina una macchina in cui la potenza reale deve essere quella del braccio che serve a sostenerla e poi ci sono tutta una serie di piccole cose ma che poi nel complesso significano tanto che danno fastidio quando si lavora già ad esempio vi faccio vedere ora sposto un pochino le valigette le dimensioni guardate mettendo appaiando le macchine nella parte posteriore vedete di quanto spunta tanto di più il il parkside rispetto a black and decker ora capirei se il parkside avesse la percussione se avesse caratteristiche aggiuntive ma all'atto pratico l'unica cosa che si percepisce è maggior dimensione maggior diametro proprio del gruppo che contiene il motore del suo chassis eccetera anche allora vediamo un po la ghiera no la ghiera è un pochino più lunga quella del black and decker cioè il tutto si perde quando il gruppo motore e non capisco nemmeno tanto perché addirittura il grilletto del parkside vedete un grillettone confrontato a quello del black and decker il sistema di reversibilità del comando della rotazione del mandrino qui è sostanzialmente lo stesso addirittura quello del black and decker ha un pulsantino più piccolo l'impugnatura del black and decker è più sottile ovviamente l'impugnatura ha unicamente una funzione strutturale dentro ci passa giusto il filo del positivo del negativo che poi va alle alle batterie e non c'è niente in più anzi addirittura essendo un trapano a percussione black and decker dovrebbe pesare dovrebbe avere una massa battente che determina la percussione quindi pesare leggermente in più paradossalmente pesa quasi 500 grammi in meno cioè il perché di tutto ciò sinceramente così senza andare a smontare non non ve lo so nemmeno spiegare perché quello che potremmo fare sarebbe la solita autopsia ad esempio andare a pesare le singole scocche le batterie vi dico subito perché l'ho fatto poc'anzi quella del parkside pesa 60 grammi in più è poca cosa ma comunque ora vi faccio vedere anche le dimensioni delle batterie quello che determina un ingombro maggiore tutto sommato è solo plastica è vedete quello che che sembra più grande è lo chassi esterno di plastica non è che debba che debba che influisca così tanto è il corpo macchina quello che discrimina fortemente l'utensile nuovo di parkside ora il tutto per una spesa che praticamente è di 90 euro dove se andassimo un pochino a scorporare quelli che sono gli accessori quelli che sono le doppie batterie eccetera arriveremmo stretti stretti a determinare un valore un prezzo del solo corpo macchina che si aggira attorno ai ai 50 euro 5 euro più 5 euro meno io ora per lo stesso prezzo vi ripeto perché alla fine questo con percussione oggi così com'è valigetta doppia batteria e carica batteria costa 100 euro qui per 90 euro in più diciamo parkside ci mette una serie di accessori come dei bit di di avvitatura qualche punta per legno e metallo e poche cosine in più che ora vi faccio anche vedere così giusto per rinfrescarvi la memoria dall'altra parte se volessimo implementare il nostro black and decker che già viene con la sua valigetta che insomma guardate in 10 15 anni a parte qualche graffio non ha subito il benché minimo danno per implementare il nostro traparmigratore black and decker ci compriamo una un'altra valigettina con gli accessori guardate qua questa pure marcata black and decker ma il produttore di questa valigetta produce anche per bosch produce per devalt produce per makita tant'è che lo stesso identico set si trova rimarcato con i nomi di queste altre aziende che vi ho appena nominato e costa tra i 20 e 22 euro insomma siamo lì a volte raggiunge anche i 18 euro quando c'è qualche offertina ma capirete che da 20 a 18 euro è uno sconto giusto del 10 per cento e addirittura magari si può beccare qualche caso fortuito in cui si scende ancora di più comunque questo è un set che ha 20 anni ho rotto nel tempo qualcuna delle punte più piccoline le ho dovute sostituire e implementare i bit sono comunque di pregevole fattura del busso del stesso discorso se ne ossidata qualcuna nella parte esterna perché magari per far forza in determinate situazioni ci sono andato anche stringendo con una chiave a pappagallo sulla superficie esterna del della bussola ma di per sé questo è un set che ancora ora non ho più il manico chissà dove mi è finito ancora si difende poi ovviamente sono materiali di usura vanno implementati qualche punta per parete per muro ce l'ho nell'altra nell'altra stanza voglio dire è ancora valido quello parkside e qua e vedete è un'altra cosa purtroppo è un'altra cosa nel senso sì vabbè ovviamente nuovo però si vede immediatamente il livello qualitativo iniziale qui abbiamo dei dei bit corti medi e lunghi che sicuramente sono stati realizzati con un metallo ferroso di non eccelsa qualità lo si sente già al tatto si percepisce proprio il peso specifico in base alla quantità di materiale e al suo stesso peso dopo un po l'esperienza si acquisisce e ad esempio se vi faccio vedere già solo questo adattatore notiamo immediatamente che il cordolo esterno la parte del cilindro che poi deve accogliere all'interno il il suo bit è particolarmente grossa qualcuno potrebbe dire ma così è più forte beh in parte è vero teoricamente ma è anche vero che molto spesso ci si trova a dover inserire anche il cordolo di il gancio all'interno di una situazione dove lo spazio è poco e quindi diventa anche questo un impedimento questo appartiene una serie così insomma di battaglia economica di battaglia perché economico poi qualcuno si offende ma in realtà di battaglia ancora più degradante stesso discorso per le bussole le bussole qui proprio a vederle nemmeno a toccarle sono apparse come qualcosa di come l'ultima delle cineserie quindi di questi accessori a me ne capitano e ne sono capitati tanti e devo dire che la maggior parte ogni volta che mi rendevo conto di avere paccottiglia tra le mani l'ho presa l'ho messa da parte buonanotte perché non vale nemmeno la pena stare lì a portarsene dietro per fare qualche lavoretto sperando che torni utile purtroppo il più delle volte gli accessori se non sono buoni ti vanno a rovinare quelli che sono viti dadi e bulloni quindi a un certo punto è meglio non usarli proprio protendere verso serie di accessori migliori che si deformano meno con una miglior tenuta piuttosto che stare lì a dire di sfrutto perché così insomma ce li ho almeno vado dando una motivazione al mio acquisto quindi ripeto tra 100 euro più una valigetta di attrezzi di questo tipo arriviamo a 120 e 90 euro per trovarmi comunque senza la percussione e con una serie di accessori comunque di discutibile fattura perché poi se ci mettiamo a guardare qui in questa in questo vano gran parte dello spazio occupato dal flessometro dal tagliabalsa da una matitona da un portamine come questo che secondo me lascia il tempo che trova io le matite insomma i marcatori li compro a pacchi da 6 da 12 perché poi insomma si si dimenticano in giro si lasciano a destra e a manca a volte magari me ne porto anche due tre così insomma di tutti quelli che vanno sparpagliando in in area di lavoro uno sempre riesco a reperirlo senza troppi tribolamenti però insomma vedete quello che maggiormente va a determinare una scelta infelice secondo me sono proprio le dimensioni non non si può lavorare dopo 15 anni che si ha già posseduto uno strumento che ormai ha fatto il suo tempo per certi versi con quello che dovrebbe essere l'evoluzione della specie che risulta peggiore del nonno il nonno ancora ne ha tanto da dare le batterie devo dire le black and decker non le ho mai cambiate e ancora lavorano benissimo parkside dal punto di vista delle batterie devo dire che mi ha dimostrato una buona affidabilità su questo spezzo un'arancia o una lancia però un poco meno poi su tutto quello che è l'apparato macchina l'apparato utensile perché laddove bisogna cambiare un componente l'idea ti lascia a piedi ti offrono una garanzia di tre anni ti offrono qualche volta la possibilità questo in germania di rivolgerti a siti come compernas qua dentro c'è scritto proprio il sito compernas oppure grizzly però laddove ad esempio ti occorra un grilletto non hai come fare per procurartelo su black and decker diciamo che la scelta di parti di cambio è sicuramente più vasta di maggior disponibilità anche se vi dico qualcuno aveva criticato proprio questa serie di utensili della black and decker perché il motorino non lo trovava facilmente non lo trovava nel catalogo black and decker oggi vai con i codici del motorino su aliexpress voglio dire un motorino compatibile o addirittura di potenza superiore lo trovi come comunque l'importante poi è che le misure possono essere inserite all'interno dello chassis e risolvi che dire in definitiva la prova il test la prova di potenza non la voglio fare perché significherebbe mettersi con un pezzo di legno una vitona grande considerare entrambe le batterie appena carica e stare lì in maniera comunque molto soggettiva è poco indicativa a perforare cercare di far entrare una vitona dentro un pezzo di legno le condizioni possono cambiare quindi tutto sommato non stiamo sempre lì a guardare la pura potenza dell'utensile quanto praticamente dobbiamo giudicare la versatilità totale complessiva di quello che ci ci offre una macchina del genere io quando devo fare qualsiasi lavoretto intanto mi porto questo per dire e so che posso perforare metallo legno fare un buco nel muro usarlo per stringere magari dei dadi con le bussole relative solitamente qui arrivo fino alla 13 mm ma niente mi vieta di usarlo fino ad esempio a una 17 anche se insomma siamo molto molto al limite questa diventa comunque una macchina invece che vuole dal punto di vista del marketing offrire tanto e già lo si vede dalla ghiera di regolazione che viene descritta come divisa in 25 punti il black and decker da solo solo per così dire 10 regolazioni di torsione più quella fissa in presa diretta e la percussione è inutile stare lì a cercare il pelo dell'uovo con la mezza misura 10 sono più che sufficienti anzi io ne avrei fatte in realtà molto meno solitamente vado o con la prima la seconda o direttamente con la decima o in presa diretta quindi sostanzialmente io ho tre selezioni più la percussione qui averne 25 che comunque la ghiera risulta anche un pochino dura non è l'ottimale e poi una cosa che non mi fa assolutamente impazzire è il selettore di velocità i tasti del parkside sono durissimi ora che che se ne dica uno è già quando fa dei lavori in posizioni scomode a centomila cose tra le mani magari stai infilato dentro un mobile o sulla scala magari hai dei guanti che non ti calzano perfettamente o che comunque non ti danno la possibilità di una buona presa e devi arrangiarti con il dito libero che hai per gestire il selettore a me già con l'indice che dovrebbe essere anche un dito forte viene terribilmente faticoso stare qui a cambiare la selezione di velocità tra uno e due cosa che o black and decker qualcuno magari da no è che tu c'era i 15 anni fa il pulsantino e stanco no 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 queste macchine sono di fascia hobbistica e per antonomasia da sempre hanno fatto il loro lavoro queste altre sono di fascia hobbistica sono dal punto di vista anche estetico tutte quante spaziali però a livello di sostanza poi ti richiedono sempre un altro sostituto qualcosa che vada a implementare le loro mancanze hobbista significa cercare significa anche cercare di fare tanto con quel poco che hai ovviamente uno non può avere tutto specialistico parkside sta differenziando così tanto che alla fine ti tocca avere il trapano percussione di un'altra serie o un'altra macchina ti tocca avere puoi comprare quello col maniglione di lato per non soffrire torsioni al polso sono tante cose ma che dovrebbero essere più prerogative di marche professionali semiprofessionali e non di chi ti deve realmente vendere in trapanetto per fare lavoretti semplici a casa ci sono delle velleità che non si capisce a che servano realmente quindi anche offrire un kit del genere integrato nella valigetta dell'utensile significa secondo me che a brevissimo tempo questo coperchietto trasparente si si frantumerà anche in maniera abbastanza precoce perché qua se ci cade un peso questo si va a lineare come qualsiasi policarbonato trasparente mentre la valigetta insomma poi risulterà monca e insomma secondo me a conti fatti la spesa di 90 euro non vale quello che che ricevi considerato tutto poi se qualcuno dice io a disposizione questi questi soldi voglio iniziare con un set del genere amico mio sappi che anche il set più completo necessita continue integrazioni continue aggiunte io sono pieno di set di tutti i tipi e sempre mi manca qualcosa se hai che so delle punte per per metalli ti toccherà a un certo punto comprare anche delle punte con misure intermedie quindi la se la 5 ti occorrerà 5 e mezzo 6 6 e mezzo 7 7 e mezzo addirittura ci sono le punte decimali e così praticamente per tutto uno degli ultimi acquisti così molto particolari che mi è toccato fare ad esempio sono state delle brugole in in pollici è stato un caso più unico che raro nel questa mia esigenza però alla fine sappiate che comprare così dei dei kit già fatti secondo me lascia il tempo che trova meglio fare gli acquisti mirati specialistici a certo punto e in base al lavoro che ti capita procedere così tanto da 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 obbista ve lo dico dovete sempre arrangiarvi e cercare di fare il meglio con quel poco che avete potete avere tantissimo ma sarà sempre poco quindi a un certo punto meglio iniziare a fare delle spese su macchine un attimino più evolute che sono anche progettate meglio e con una cognizione di causa e non stare lì dietro un prodotto che sinceramente io a un certo punto non ne capisco nemmeno nella natura d'accordo con questo è tutto ho espresso un'opinione poi ovviamente altre avranno opinioni come sempre vi invito a iscrivervi al canale buttarci un like e confrontarci se volete attraverso i commenti in maniera civile ed educata soprattutto perché non tutti lo devo dire si esprimono decentemente molti scrivono giusto per offendere giusto per manifestare una prepotenza qui quello che vogliamo secondo me perlomeno quelli che già sono iscritti a questo canale e arrivare a concepire un ambiente dove poter discutere dove potersi confrontare e dove magari in maniera anche non esatta arrivare a un risultato accettabile d'accordo con questo è tutto io vi saluto e alla prossima ciao